Il Natale si stava avvicinando molto velocemente, corre l'anno 1996-97, infatti in questa puntata avevo circa 3 anni e già giocavo, pensate un po' voi, al posto di preparare l'albero oppure stare calmo a vedere la tv o roba del genere oppure giocare con i giochini, già addobbavo la mia camera con fili elettrici e prese elettriche, ma non so che motivo, cioè, vabbè. In questa puntata andiamo a vedere proprio il prenatale, quindi come facevo, non so neanche come riuscivano a calcolare i miei genitori, se erano normali oppure messo male, perché giocare con i fili elettrici al posto con, non so, con un qualcos'altro, vabbè. Comunque vedremo il prenatale e poi il Natale cosa mi è stato regalato, però il problema è che ovviamente in quegli anni tutti i bambini chiedevano sempre la playstation, anche io avevo chiesto la playstation, però mi è arrivata tutt'altra cosa. Via col video. Ecco Fabio al lavoro. E' bellissima quella. E' bellissima quella. La giosta. E' bellissima. E' bellissima. E' bellissima. Ti piace? E' molto bello. Questi sono dei latte visione. Ma va? E' questo? E' questo? E' questo? E' e poi vediamo la mia cassetta. Certo! Fammi vedere qualche altro filo. Eh? Fammi vedere qualche altro filo. E quella che te la date? La notte io qua Oh, questa è bellissima, che cos'è? E la ciabatta E quella che te l'ha regalata? Questa? La ciabatta, che te l'ha regalata? Questa è la L'impianto delle luci di Natale sul lettino Ecco tutte le foto delle spine attaccate al lettino Buone feste 1900 Ecco Fabio con il regalo che Babbo Natale gli ha portato oggi il 24 Peso Pesa Fabio, sei un campione? Si Ma uno l'ho perso Circa Ma Sì, ho vinto. Ho vinto. Faccio pausa e faccio vedere quelli là. Amore la presa. Amore la parata. Dai che c'è la portiera. Eh, era rimasto sotto. Vedi qua, vieni qua. Ecco, bravo. Alzalo, alzalo. Mettiti sul divano, non per terra. Vieni qua, sul divano, muove. Un altro. Così, vai così. Ecco. E il bigliettino non lo leggiamo? È di Babbo Natale il biglietto, eh? Per Fabio, auguri, dai nonni, Teresio. Carlo, non è di Babbo Natale? È di Babbo Natale. Ancora? Ma è un altro questo. È diverso da quello là. Sono altri giochi questi. Che bello. Sono altri giochi. Sono due diversi. Sono due diversi. Che bello. Sono due diversi. Sono due diversi. No, è chiuso qua. Adesso prendiamo anche... Un pallone. Un pallone. Un pallone. Un pallone. Un altro filo. Chelucci. Un altro filo. E c'è che lo agio. Hai aiutato? Certo. Cos'è questo? Allora, seguiamo lì. Dove è la bussola? Ah, qua dove è la bussola. Cosa costruite? Adesso vediamo cosa c'è da costruire. Qua c'è tutte le schemi. C'è l'alfabeto Morse. Non mi è attaccato qua questo. Fabio, è bello? Sì, è. Buon Natale! Buon Natale! Fischiamo cari ognuno? Non ti fisco un cario adesso. Non ti fisco un cario adesso. Oh no! Oh no! Sì! Oh no! 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 Ma cosa hai fatto lì? Sì! Eh? Cos'hai fatto? Il cappanile. Con le luci così si attaccano le spine e poi c'è tutto il coro. Cosa? C'è delle ruotele per fare così. Ah! Ho capito! Bellissimo! Ma adesso hai dato via il cappanile. Questo è il busso che è la sopa e il cappanile. Poi? La luce, i figli, tante luci che lo vanno, le spine qua qua qua. E quelle lì le spine. E tu ce li hai tutte quelle lì? Eh sì! Io ce li ho. Va bene ti lasciamo lavorare, buon lavoro! E fa l'acqua! Ancora! E lo rifaccio dopo quando ho rifatto il bellissimo impianto.